È tutto pronto a livello organizzativo sul Gran Sasso per accogliere il 12 maggio la carovana rosa del Giro d'Italia per la settima tappa. Il numero degli accessi consentiti in funivia è stato stabilito dai tavoli operativi del comune. Mille potranno salire per assistere intorno alle 17 all'arrivo. Dalle 14 in vendita i biglietti sul sito del centro turistico. Il costo è di 15 euro. Il biglietto consentirà di usufruire anche della seggiovia Le Fontari, ma gli impianti sciistici saranno chiusi. La funivia del giorno dell'arrivo sarà attiva dalle 8 del mattino. A Mattua metteranno a disposizione dei bus. Sarà attivo anche il COC comunale nella giornata di venerdì dalle 7 alle 24 con la protezione civile comunale in campo. Il comune ha fatto montare poi una torre faro sul piazzale di Campo Imperatore per avere eventualmente più energia. Il tutto sarà accompagnato da un villaggio rosa in centro. Siamo a tre giorni dalla tappa. Siamo in attesa, siamo in fremente attesa che arrivi questo giorno. Nel frattempo, come sapete tutti, l'ingresso a Campo Imperatore è contingentato tramite la funivia. Quindi oggi inizia la vendita alle ore 14 dei biglietti sul sito del centro turistico. Quindi acquisto online per salire sulla funivia. Per quanto riguarda il resto, la strada ormai è pulita. Solidi muri di neve ai lati. Parcheggio pronto. Aspettiamo tutta la carovana che mette tutta la zona di arrivo. Per quanto riguarda le previsioni, al momento sono leggermente migliorate. La mattina è prevista una variabilità con nuvole, nuvole sereno. Nel pomeriggio, purtroppo, i vari siti che noi controlliamo mettono tutti quanti maltempo. Non è un grosso maltempo, però al momento c'è pioggia. Pulita la strada completamente, come pure la zona dell'arrivo dalla neve, sulle condizioni meteo c'è chi dice che potrebbero arrivare anche dei fiocchi bianchi sul Gonsasso. Tutto dipenderà dal meteo delle prossime ore, che andrà osservato con attenzione, vista la grande instabilità.